è il momento dell'annuale corsa nella natura organizzata da papà bus sarà super divertente ash e buster lavoreranno insieme devono correre nel bosco il più velocemente possibile e il primo che tornerà vincerà il trofeo scintillante pronti via 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 bandito ha superato buster e ash vuole davvero vincere ma cosa sta combinando ha cambiato il cartello quindi buster e ash stanno andando nella direzione sbagliata oh no non c'è più il percorso c'è qualcosa che non va e quello cos'è un enorme impronta di pneumatico ash pensa che si tratti di un mostro no non preoccuparti ash i mostri non esistono oh oh penso che si siano persi ma devono andare avanti stanno rallentando o cielo sono bloccati nel fango cosa faranno che cos'è sembra un mostro no niente paura è solo un monster truck sono molto amichevoli tira fuori ash dal fango wow che forza e ora è il turno di buster questo monster truck si chiama mira anche lei si è persa proprio come loro buster le dice che possono lavorare in squadra ecco quel cattivo di bandito è quasi al traguardo ma guarda bastere i suoi amici sono in vantaggio hanno finito per prendere una scorciatoia urrà mira ha vinto la gara ma non ce l'avrebbe fatta senza i suoi nuovi amici e ha vinto il trofeo mira è triste per il fatto che bandito sia solo lei sa come ci si sente bandito si sente in colpa per aver barato nella gara non preoccuparti bandito non c'è bisogno di barare se si hanno degli amici al proprio fianco ed è sempre divertente fare nuove amicizie